Avviare un percorso condiviso di comunicazione e scambio di informazioni tra l'ufficio, relazioni con il pubblico della Regione e gli enti locali del territorio, a loro volta dotati di URP. E lo scopo del progetto, approvato dalla Giunta regionale, per offrire ai cittadini più canali di informazione sui servizi offerti. Sono previsti inoltre incontri sul territorio, tra la Regione e i comuni che aderiscono al progetto, così da avviare un confronto sulle necessità dei cittadini e del territorio. La pagina dedicata conterrà le informazioni suddivise in aree tematiche riguardanti il lavoro, i bandi, il sociale, la cultura, l'ambiente e il territorio. Tutte le info sull'iniziativa sono già disponibili sul sito dell'URP della Regione.